Aspetta che è impegnato a soffrire, ha un po' l'incontro. Quante è che ce l'ha? 3-4 anni. 3 anni. 3 anni? Da questo? 2. Ma era una caettina. Paola, un'impressione a caldo, proprio. Ahia. Era meglio quando era sfasciato. Non lo voglio queste volte. Davido. Oi. Ma vai qui. Perché lo riesce a prendere il piede?